Sbagliate in questo. La voce interiore attraverso Roberta S. guide. Tutta la vostra esistenza è proiettata verso un'unica dimensione. Sbagliate in questo. Sappiate scegliere varie strade per poter essere aperti a tutte le strade che vogliono raggiungervi, perché noi vi diciamo che sono le strade a trovare voi e non voi con la piantina in mano a ritrovare quelle strade. Noi vi diciamo che non c'è piantina in grado di soddisfare la vostra curiosità se la strada che state percorrendo non è fatta di sassi o di fiori, bensì d'aria. Allora muovetevi nella convinzione di essere nel giusto, di stare vivendo la vostra vera esperienza di vita senza rinnegare nulla di ciò che siete, o che siete stati, perché quello che appartiene al vostro modo d'essere di ora appartiene anche al vostro modo d'essere precedente. Voi non siete cambiati come credete, siete cambiati a livello di percezione di vita, ma la vostra mentalità, la vostra cultura è rimasta la stessa. Siete immersi nella confusione della vostra società e non potete tirarvi fuori e non vi chiediamo di farlo, ma vi chiediamo di migliorare il vostro pensiero nei confronti di questa vostra società perché non vi è nemica. Noi ve lo garantiamo e non c'è alcuna crisi che in realtà non vi appartenga e se proprio volete parlare di crisi, sappiate che siete voi a scegliere di vivere una crisi.